Parliamo insieme perché così la gente non prende l'acqua. Allora dicevo, me la sono preparata questa, salone bagnato, salone fortunato. Viva il Salone di Venezia e la parola al Ministro, grazie a tutti, tutti quelli che ci hanno creduto. Posso darvi un consiglio di andare un po' indietro così almeno ci ripariamo. Una parola da Veneziano, da Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Qui siamo nel posto giusto, l'economia del mare, la cantieristica, la nautica da di porto per riprodurre la base economica di Venezia. La base economica di Venezia che ha fatto Venezia grande nei secoli e che tornerà a fare grande Venezia nei secoli. Ritorniamo a ricostruire la base economica della città, questa acqua di buon auspicio per tutto questo. Viva Venezia, viva San Marco, viva le glorie del nostro Leon e viva la nautica, viva il mare e viva il ruolo di questa città straordinaria che tornerà a essere la città più antica del futuro. Grazie a tutti.